Non lo so che mi è successo, è buio, però mi sento bene. Portacci so che forza. C'avrebbe uno così, Riccardo. Magari avessero un batteria. Tu conosci il ciclo d'acciaio? Cioè, ma adesso è il supereroe, ma mica quello rubato. Io voglio fare il botto. C'è una ragione che cresce in me. E l'incoscienza sveglia. Perché è capace che forse l'umore in una cifra di gente? Io solo una cosa voglio sapere. Solo una. Perché c'è sta forza. Yes! Uno che non si è mai sentito mi dita. профini a fare bene. Questa invece, sia, History Studio Studio records. E più piacere, YouTube. Cistà nei video!